Bet, 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 lieber Fußballgott, bring uns Kostic! Scusate amici, ma ho fatto una piccola preghiera per il Dio del calcio, perché da tedesco, da interrista tedesco, lo spero con tutto il cuore, che possa veramente arrivare Kostic. Si parla veramente di una trattativa già molto avanzata, anche i media tedeschi già da giorni parlano di questa cosa, adesso sono arrivati anche i media italiani. Ma spero con tutto il cuore che possa arrivare, perché questo qui ragazzi è un giocatore, secondo me, veramente forte, che ho analizzato, ho studiato, ho osservato in questa stagione, che parliamoci chiaro, lui ha giocato, e l'ha detto anche in un'intervista, è stato anche trasparente, la stagione della vita. Lui si trova nella forma della vita, in un Eintracht Frankfurt, che anche loro hanno giocato una stagione formidabile che veramente nessuno se lo aspettava. E la cosa però, secondo me, molto bella, amici miei, è quella che qui non parliamo solamente del mio giudizio soggettivo, no, parliamo anche di numeri, di dati. Ragazzi, qui parliamo di 4 gol e 17 assist, cioè 21 partecipazioni gol in 30 partite. Numeri veramente spaventosi, cioè 17 assist nell'ultima stagione, considerando che in Bundesliga ci sono solo 17 avversari, campionato un po' più piccolo rispetto all'Italia, per esempio, perciò un numero veramente spaventoso. Ma non solo questo, ragazzi. Poi ho letto un'altra statistica, 213 gol in questa stagione, cioè praticamente in questa stagione meravigliosa dell'Eintracht Frankfurt, un po' come l'Atalanta all'inizio, dove facevano un po' impazzire tutti, tutti dicevano ma come fanno, ma dove prendono queste forze fisiche. Un po' così, diciamo, ci ha fatto innamorare tutti in Germania anche nel gioco dell'Eintracht Frankfurt, che ha giocato una stagione emozionante, una stagione veramente bella. E ripeto, lui era il treno, il treno sulla cossia sinistra e ha fatto 213 cross, numero uno in classifica di quelli che hanno crossato di più. Ma la cosa che mi spaventa quasi un pochino è che il secondo giocatore che ha crossato di più è Sosa, del Stuttgart, con solamente 128 cross. C'è un gap enorme, qui parliamo quasi del doppio. C'è uno che veramente non si è stancato mai, che ha giocato con tanta quantità, ma soprattutto anche con qualità. Perché uno adesso potrebbe dire, eh vabbè Giano, fare tantissimi cross lo faceva anche Antonio Cantreva e poi spaccava tutte le birre nelle mani dei tifosi nel terzo anello. Cioè, parliamoci chiaro, oppure degli amici che vendono le patatine, bam, 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 li spaccava e c'era tutto il macello lì in quei settori. Perciò ci vuole anche qualità. Però ragazzi, lui ha ovviamente un bel piedino sinistra, perciò non sarà un sostituto di Hakimi. Parliamoci chiaro, il mio sogno ovviamente sarebbe avere qualità sulla corsia destra con Ashraf e avere qualità sulla corsia sinistra con lui. O a livello finanziario so che probabilmente non sarà possibile, però vediamo cosa succederà. Sicuramente lui non sarà l'erede di Hakimi. Se dovesse andare via Hakimi, che con tutto il cuore, spero che non succeda, secondo me se dobbiamo monetizzare un BIC, facciamolo con Lautaro. Perché una seconda punta forte la trovi. Uno come Hakimi a destra, con quelle caratteristiche, che è una cosa genetica. Essere così rapido, sei nato così, non ti puoi allenare, non lo troviamo più. Vabbè, lasciamo stare questo discorso, perciò non sarebbe un erede per Ashraf Hakimi, perché lui gioca sulla corsia sinistra. E ripeto, non solo quantità, anche qualità. In Bundesliga ha fatto 26 gol, 48 assist in 127 partite per l'Eintracht Frankfurt. 28 anni, perciò si trova proprio nella fascia età, secondo me, ideale. Si parla di 20-25 milioni di euro. Ripeto, sarà solo possibile se parte purtroppo un BIC. Ma a prescindere di quello, che è un'altra cosa, io spero con tutto il cuore che possa arrivare. Adesso lo analizziamo un po' proprio anche a livello tattico, ragazzi. Vi spiego tutto come ha giocato nell'Eintracht e vi spiego proprio come mai mi piacerebbe anche tantissimo all'Inter. Innanzitutto, però, piccola sponsorizzazione, così mi calmo un po', ragazzi. Per questo giocatore mi piace troppo. Fratelli italiani, seguitemi anche sul secondo canale YouTube. Giano Food, un tedesco impazzisce per la cultura italiana. Viaggeremo in tutte le 20 regioni italiane per provare tutti i piatti tipici. Sempre viva l'Italia! Amici, lo sapete, mi sono trasferito in Italia, finalmente nel mio paese. Sono straordinamorato nella cultura italiana. Ovviamente sono anche qui per motivi privati. Però, amici, questo canale qui, Giano Food, lo porto avanti per passione. Perché mi costa veramente caro viaggiare in tutte le 20 regioni italiane. Perciò, sempre più spese per quello che guadagno, ma è passione. Io l'Italia, la cultura italiana, ce l'ho nel cuore. Perciò, ragazzi, vi chiedo supporto sul secondo canale Giano Food. Un tedesco impazzisce per il cibo italiano. Vi aspetto, ragazzi, sul secondo canale Giano Food. E adesso andiamo avanti. Link, ovviamente, in descrizione. Allora, parliamo un po' della stagione dell'Eintracht Frankfurt, come ha giocato Kostic. L'Eintracht normalmente giocava con due moduli. Con un 3-4-2-1, con due giocatori molto creativi. Diciamo, due numeri 10, anche se Kostic ha il numero 10. Però, solamente una cosa simbolica, gioca ovviamente sulla cossia sinistra. Però avevano questi due giocatori dietro la punta. Oppure, con il 3-4-1-2, Kostic sempre sulla cossia sinistra. Allora, spesso transizioni veramente rapide. Palla subito sulla cossia sinistra. Praticamente cercavano sempre Kostic. Lui spesso attaccava la profondità. E specialmente quando giocavano con il 3-4-1-2. Che ovviamente non è il 3-5-2 di Conte. È il modulo che sicuramente farà anche giocare in Zaghi. Però è un po' simile perché ci sono due punte. E la cosa che io ho notato spesso è che Antresilva, che conoscete ancora tutti anche dalla Serie A, dove ha deluso molto in Bundesliga, ha fatto molto bene quest'anno. Anche una cosa psicologica secondo me. Spesso sprint in profondità. Dall'altra parte Jovic, che è tornato all'Inter Frankfurt, e parliamoci chiaro, da quando è tornato lui, il suo connazionale, lui ha fatto bene. Anche a livello psicologico. Comunque lui rallenta, addirittura frena, spesso fermo, e così si crea un buco proprio nella difesa. Io questo movimento contrario dei due attaccanti, di questo tridente, se prendiamo in considerazione anche Costi, solo a costi a sinistra, l'ho visto, rivisto tantissime volte. Perciò quando lui attacca alla profondità e ci sono i cross, secondo me il gioco delle due punte è veramente molto importante. Ripeto, uno che va in profondità, uno che frena, e perciò creano un bel buco. E questo movimento, secondo me, lo potranno anche fare Lautaro Martinez e Lukaku. E poi sarebbe ancora meglio, ovviamente, se uno poi si mette sul primo palo. E magari sale anche l'esterno della fascia destra, come lo faceva spesso Hakimi, perché lui aveva le gambe giuste per farlo, sul secondo palo. Così, veramente, bel buco nella difesa e tantissime opzioni per i cross, molto molto pregolosi, di Kostic. Dall'altra parte, spesso squadre anche, diciamo, con un baricento un po' più basso. Lì ho visto proprio un'area avversaria piena di giocatori del Frankfurt, spesso con 4-5 giocatori, sempre pronto sul secondo palo Silva. Ripeto, che ha fatto 28 gol in questa stagione, spesso è stato cercato proprio da Kostic. Questa, diciamo, è una cosa un po' più prevedibile, ma nonostante ciò, i cross veramente pericolosi. Ovvio, non tutti poi sono arrivati alla conclusione, o arrivato a un gol, perché è ovvio, quando la squadra c'è un baricento così basso, però nonostante ciò, spesso la soluzione dell'Eintracht era proprio Kostic, perché ha un bel piedino. Parliamoci chiaro. Poi ho notato, in fase difensiva, un Kostic spesso posizionato molto in alto. Parliamoci chiaro, questo Eintracht Frankfurt giocava con grande fisicità, come lo fece anche l'Inter di Conte. Parliamoci chiaro, un gioco molto fisico, un gioco molto cattivo. L'Eintracht spesso un po' al limite, tanti giocatori, per esempio Rode, se non mi sbaglio, si è preso addirittura 10 cartellini gialli nell'ultima stagione, e diciamo, il pressing scatena già lì davanti. Già con gli attaccanti, spesso cercano l'uno contro uno, e spesso Kostic è talmente posizionato in alto che creano super età numerica, che veramente l'avversario va in difficoltà, deve fare un lancio lungo o qualcosa per liberarsi, e poi spesso perde ovviamente la palla. Perciò qui Kostic è posizionato molto in alto, una cosa che ho visto anche provare a fare Antonio Conte. Io mi ricordo un Ashraf Hakimi, metà stagione, posizionato molto, molto in alto, che però non funzionava, perché poi nelle transizioni, uno come Hakimi ha bisogno di spazio, deve partire più dal basso, ha bisogno proprio di metri, per velocizzare, e per spaccare sotto questo punto di vista. Invece Kostic è uno che gli piace proprio, essere posizionato in alto, di pressare, ovviamente un gioco che, ha anche dei rischi, parliamoci chiaro, perché se poi tu riesci a liberarti, c'è anche un po' di spazio lì dietro. In generale l'Entra Frankfurt ha giocato, ripeto, la stagione della vita, 69 gol, solamente il Dortmund e Bayern hanno segnato di più, che però in fase offensiva con Holland, Lewandowski, questi giocatori qui si trovano in un mondo parallelo. La cosa incredibile è che adesso punta, non solamente con Kostic, ma ve la voglio dire ragazzi, perché qui vediamo per l'ennesima volta, che è la testa, la testa è talmente importante per il calcio, l'aspetto psicologico, come lo disse anche Ibrahimovic, il calcio è, diciamo, 60% fisico, certo, deve essere in forma, ma 40% minimo, anche testa, livello psicologico. Ragazzi, ripeto, l'Eintraut stava giocando la stagione della vita, per la prima volta nella storia dell'Eintraut, potevano, dovevano andare in Champions League, si stavano qualificando per la Champions League. Io da simpatizzante del Dortmund dicevo no, quest'anno di stack ormai è troppo grande, Dortmund non andrà in Champions League. Poi cosa è successo? L'allenatore del Frankfurt ha dichiarato pubblicamente che lascerà, dopo questa stagione, la sua squadra che andrà al Prussia Mönchengladbach. In quel momento, ragazzi, la squadra è crollata, ma in una maniera veramente spaventosa, veramente spaventosa, perciò io sono anche contento che Conte così, alla fine, ha detto di lasciare l'Inter, perché se lo faceva in piena corsa a scodetto, lotta a scodetto, chissà cosa sarebbe successo. Cosa incredibile, ragazzi, ultime cinque partite, Eintraut Frankfurt solamente due vittorie, veramente male, tre partite, che poi mi ricordo, mancavano tre partite per la Bundesliga, e l'Inter Frankfurt aveva ancora un punto più rispetto al Borussia Dortmund, che però gli avversari sembravano abbastanza scarsi, se non mi sbaglio, dovevano giocare anche contro il Schalke, contro il Mainz, cioè partite veramente dove uno pensava, beh, questi qui portano a casa questo posto Champions League, invece cosa è successo, ragazzi, tre partite, nove gol subiti, e solamente un gol segnato, soprattutto nel momento, ripeto, quando l'allenatore dell'Eintraut Frankfurt ha dichiarato di lasciare il Frankfurt, sono proprio caduti a pezzi, invece il Borussia Dortmund ha vinto tutte le sue ultime cinque partite, ed è andato in Champions League, che è veramente molto importante a livello economico, soprattutto durante una crisi come questa qui, perciò Adi Rüther, da un lato, ha costruito il successo di questa squadra, dall'altra parte, ha distrutto tutto con questa dichiarazione di lasciare l'Eintraut, secondo me è una cosa spaventosa, ragazzi, perché stavano giocando un calcio veramente meraviglioso, che faceva innamorare tutti quanti, e poi dopo sono completamente crollati, perciò ragazzi, quelli che dicono, no, la testa non è importante nel calcio, veramente capiscono poco, amici, se avete domande, fatemele nei commenti, mi piace interagire con voi, mi piace leggere i vostri commenti, alcuni fanno commenti lunghi, che veramente mi stanno emozionando, che è veramente incredibile vedere questo affetto, questo interesse da parte vostra, perciò, un fortissimo abbraccio a voi, amici, spero che vi piaccia questa serie da tedesco, vi spiego, che ripeto, non lo faccio per vantarmi, lo faccio per poter acculturare la gente, come io posso ovviamente imparare qualcosa, se seguo uno youtuber spagnolo, uno youtuber italiano, uno youtuber, che ne so, inglese, io seguo tanti, per esempio, canali youtube inglesi, così io spero sempre di potervi portare contenuti speciali, anche qui su YouTube Italia, un fortissimo abbraccio a voi, vi voglio bene, e sempre viva il calcio!